passato il gate ora ci imbarchiamo ragazzi si parte seconda volta bella lalagura arriva arrivati in hotel vediamo com'è ciao com'è questa stanza carina dai qua c'è il letto qua c'è la tv l'armadio un tavolino e poi abbiamo messo le valigie e niente qua c'è la finestra bene ragazzi vi abbiamo fatto vedere il viaggio in aereo il viaggio in metro e il room tour ma adesso vi spieghiamo perché siamo qua e cosa andremo a fare nei prossimi giorni perché non è che siamo qua innanzitutto partiamo dal fatto che questo viaggio l'abbiamo organizzato tipo sei mesi fa e dico abbiamo ma in realtà l'ho pianificato sei mesi fa io non ho pazienza mi dispiace esattamente ho fatto tutto il programma dettagliato se volete una volta finiti i video in programma potremmo fare un ultimo video con le conclusioni finali di questo viaggio e consigli utili se volete anche voi andare a parigi in questo caso vi lascerei anche il mio programma che ho fatto tutti i punti da visitare a parigi ce ne sono parecchi tipo 60 importanti e consigli anche sui metodi di spostamento e robe male insomma commentate qui sotto se volete un video riguardo mi raccomando detto ciò cosa andremo a fare nei prossimi giorni ovviamente non vi diciamo tutto comunque andremo a visitare principalmente vi possiamo dire che domani andiamo a versailles faremo sicuramente un video dei dolci di parigi come abbiamo fatto per napoli se ve lo siete persi andate a vedere e anche ovviamente un video top 10 cose da vedere a parigi inevitabile come anche quello di napoli per questo video non abbiamo molto altro da dire perché siamo arrivati qua siamo in hotel solo da domani inizieremo a visitare quindi vedrete nei prossimi video tutto quello che vedremo e mangeremo e proveremo e tutte le esperienze e tutte le esperienze che faremo mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video parigi ciao ciao